La Grecia riceve l'ok al pagamento della sesta tranche del pacchetto di aiuti finanziari. Nel loro rapporto gli ispettori di Unione Europea, Fondo Monetario Internazionale e Banca Centrale Europea hanno scritto che le condizioni richieste al governo di Atene sono state soddisfatte e raccomandano quindi il pagamento della nuova fetta da 8 miliardi di euro nel più breve tempo possibile.